E' partita la macchina organizzativa per accogliere la salma di San Pio da Piedrelcina nel Sannio. Ieri sera i vertici delle Forze dell'Ordine hanno avuto una prima riunione organizzativa in prefettura. Innanzitutto è stato deciso che le spoglie del frate non arriveranno più a Piazza Bissolati a Rione Ferrovia per poi essere trasferite a spalla fino al Duomo, bensì il carro funebre blindato e scortato dalle Forze dell'Ordine entrerà direttamente nel cortile dell'Arcivescovato di Piazza Orsini. Accolto dall'Arcivescovo Mugione e da altri prelati provenienti anche dalle diocesi vicine, il feretro uscirà dal palazzo della chiesa e costeggiando la fiangata del Duomo sarà portato a spalla fino all'ingresso della cattedrale. Per consentire l'arrivo di migliaia di fedeli, eccezionalmente anche l'area privata di Piazza Orsini sarà liberata dalle auto, al pari di tutte le strade nel raggio di 500 metri dalla cattedrale. I fedeli potranno entrare nel Duomo ed attendere Padre Pio sin dalle prime ore dell'alba. L'accesso alla chiesa sarà interdetto solo quando il luogo sagro sarà aggremito. Per l'occasione ovviamente massima allerta delle Forze dell'Ordine e dei soccorritori di Croce Rossa, Misericordia e 118 pronti a fronteggiare qualsiasi emergenza. Un giorno importante per la città che concluderà la permanenza del Santo delle Stimmate nel Sannio. Alle 15 dell'11 febbraio Padre Pio arriverà a Piana Romana per poi essere trasferito a Piedrelcina fino all'alba di domenica 14 febbraio. Un evento storico che vedrà la partecipazione di migliaia di fedeli.